Ci siamo inventati questo Genova per voi, che sarebbe meglio dire, non è polemica, genovesi per voi. Io vengo praticamente da Amatricio, sono stato giù, ho parlato con il sindaco, è felicissimo di questa nostra iniziativa. È un'iniziativa tra l'altro che, oltre a partecipare i trilli, tutti i comici genovesi che hanno dato la loro disponibilità, faremo Pesto e Amatriciana, dove tutti i genovesi dovranno pagare un qualcosa per mangiare e bere e ascoltare questo spettacolo che credo sia fantastico. Ci saremo in musica e cercheremo di portare il nostro contributo artistico in maniera sicuramente molto gogliardica, come sempre, però sempre tenendo un occhio di riguardo alla tradizione, a quello che è stato il percorso dei trilli, che è iniziato agli anni 70, è un percorso che li ha visti sempre a partecipare in circostanze e in occasioni di manifestazioni sociali. E quindi anche in questo continua la nostra tradizione, voler esserci in contesti importanti come questo. Perché noi non abbiamo in realtà raccolto soldi, ma semplicemente raccolto servizi e merce per fare tutto. Non dobbiamo dimenticarci di raccontare chi ci ha donato comunque la merce, la materia prima per fare la pasta, la matriciana e le troffie al pesto.